In terza fila con il 15 Nubia Vitta, 16 Nirvana, ba! 200 metri al punto dello stacco, Nubia Vitta è favorita con Marcello Mangiapane in seriolo, presentata completamente sferrata. Allo stacco c'è Lotta per il comando con Marbella Overnight, B e Gutturnio Barra che scavalcano Nia Gara del Pino. L'errore è la squalifica per Ocean, Bessa passa Gutturnio Barra dopo 200 metri in 13. Sfila sulla condiscendente Marbella, parcheggia anche Overnight, B. Quarto in corda Nia Gara del Pino, per la linea interna è Otto Landos Damurra, i primi 400 siderali in 27 e 8. La via di Purogas a Gutturnio Barra per linee esterne, traffica Manon Bigi, che gradualmente sopravanza Marbella, tenta di andare sul leader che non si oppone. 42 e mezzo ai primi sei, l'errore di Nubia Vitta. Nelle retrovie avanza largo Nirvana, va! Sbaglia Onex a match in ultima posizione. Manon Bigi mette assieme 800 metri nell'ordine del 57 e 8, il gran parziale iniziale, prova a mettere in difficoltà gli inseguitori. Dal gruppo Nirvana va a scopersi anche Nia Gara del Pino, che stana Overnight, B, quando il primo chilometro viene completato da Manon Bigi, in 1.13.4. Nirvana va che sopravanza Marbella, Marbella a centropista Nia Gara del Pino, che supera Overnight, B, mentre Manon Bigi mette assieme 1200 metri nell'ordine dell'1.27.5, chiuso con un paletto in 14.2. Manon Bigi in evidenza, 3.5 meglio di Nirvana va, largo Nia Gara del Pino, poi Marbella in fase calante a centropista, Overnight, B e a Ottolandos ad Amur, Manon Bigi che parte a più due lunghezze scarse, su Nia Gara del Pino e Ottolandos ad Amur, Poi Overnight, B, Manon Bigi in evidenza, centropista c'è Ottolandos ad Amur, poi Nia Gara del Pino, Ottolandos ad Amur, Ciccio Fiore a Redini basse, pizzica Manon Bigi, al terzo posto Nia Gara del Pino, al quarto Overnight, B, poi per il quinto probabilmente in linea, Marbella e Nobilis, P.F. 36 gli ultimi 4, lo 58.2, e il totale 1.13.9, la media al chilometro, Otto Lando Zamur, Ciccio Fiore, Ferdinando Alessandro, questa la connection vincente, l'attressa nazionale, i colori della scuderia, Freccia del Sud, al secondo posto Manon Bigi, terzo Nia Gara del Pino, 1.93, l'arrivo dell'attressa, quarto Overnight, B, 1.9, 3.6, il quartè ufficioso, al quinto di dentro, ancora Marbella con il numero 5, si sottrae dall'affondo di Nobilis, P.F. Nirvarava, pertanto il quintè ufficioso, e primo il numero 1, Otto Lando Zamur, secondo il numero 9, Manon Bigi, terzo il numero 3, Nia Gara del Pino, quarto il numero 6, Overnight, quinto il numero 5, Marbella. Grazie.